Per Stressati Nozzi, buongiorno. Cosa ci può dire riguardo questo intervento? Qual è il ruolo del Dipartimento degli Studi di Ricerche Aziendali nel coinvolgimento dei Venture Capital e quindi lo sviluppo delle imprese nel settore dell'Ix Science? Noi siamo qui per un duplice motivo, sia per un interesse scientifico in quello che la dottoressa Elisabeth Robinson ci vorrà dire, autorevolissimamente, ma soprattutto speriamo di poter avere anche un ruolo in un processo di catalizzazione dell'innovazione, dell'enorme potenzialità di innovazione che c'è in questo Ateneo, che racchiude in un campus una variegata, un'ampia gamma di saperi diversi e dalla differenza dei saperi può emergere l'innovazione. Noi come Dipartimento, avendo autorevoli esperti, anche il Sessore Parelite e i nostri colleghi aziendalisti, la possibilità di svolgere questo ruolo, di favorire e incanalare le energie innovative perché possano anche diventare progetti imprenditoriali, oltre che scientifici.